Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Ma perché ho un cucchiaio in mano? Ma perché? Perché praticamente in un video feci questa scommessa e dissi Però ora che ci penso, i cereali con la Coca-Cola diventano frizzanti? Secondo me sono buoni. 60.000 like e lo faccio. Vi porto un video dove mangi cereali con la Coca-Cola. E siccome davvero idiota mi sono permesso di non mantenere la promessa, cosa faccio? Faccio quella penitenza di mangiare i cereali con la Coca-Cola? Sì, ma con qualche penitenza in più ci metterò altre sostanze, altri liquidi. Tipo? Lo vedrete nel video. E per di più, sempre come penitenza che mi sono dato, useremo uno strumento che in qualche video fa mi ha letteralmente annichilito. La coppa magica. Infatti tutti i mix di cereali con le varie sostanze verranno unite qua dentro. Mescolerò tutto e alla fine del video mangerò. Promesso! E adesso iniziamo subitissimo con il video di oggi. Buona visione! Allora, siccome ci vogliamo bene, il primo mix con i cereali, io direi di farlo con il latte normale. Ciao, questa è la mia coscienza che vi parla. Non posso mangiare a bocca piena, quindi voglio dirvi che è buonissimo! Uno, due, tre! Olè! Nuovo bicchiere. Aggiungiamo i cereali. E la bevanda che ci aggiungeremo sarà la Powerade. Quella che usano gli sportivi per tenersi in forma e avere le giuste energie per correre tanto tempo. Quindi praticamente a me la Powerade non serve perché sto sempre sul divano. Apriamo ucciucce e versiamo. Immaginate Gesù che va al Niccaradogna del passato e gli dice Ma tu lo sai che da grande mangerai i cereali con la Powerade? Oddio, ma è stranissimo! Guardate! I cereali non affondano. Ragazzi, guardate com'è da vicino! Mamma mia! I cereali sono rimasti sopra e la Powerade giù. Sembra lo sceldino di Fortnite. Da di pesce! Che schifo! E adesso mangiamo. Sembra di mangiare una caramella scaduta. È orribile! Basso, basso, basso! È un mix strano. Io, per un attimo, ho sentito il pesce. Ma non so perché! Quindi niente, è negativo. Fa veramente schifo. Al momento il mix è così. Sembra latte e menta. Come prossima bevanda che mischieremo insieme i cereali. Abbiamo una bevanda che voi non avete sicuramente. Perché è la bevanda che hanno i Simpson. La Duff! The Simpsons! Solo che questa non è la birra Duff. Ma ci hanno fatto praticamente un energy drink. Che è all'arancia. Oddio, ma quanta schiuma c'è! Guardate! Ok, siamo pronti e mangiamo. Oddio, che schifo! Assolutamente il peggiore. Cioè, la Powerade in confronto era lo champagne. Questa assolutamente non la farei assaggiare nemmeno al mio peggior nemico. O forse sì. Vabbè, uniamola alla Coppa Magica. Ragazzi, la Coppa Magica sta già prendendo la conformità del vomito. E già dall'odore, o meglio, già dalla puzza, a me sta venendo da vomitare. Cereali nuovi e bevanda nuova, no? Mangio il ketchup! Ma come? Devo mangiare questo! Il ketchup! No, no, ragazzi, non lo faccio. Lo faccio solo se adesso mettono like al video. Avete messo like al video? Ok, ragazzi, grazie. Avete messo like al video perché volete che mangio il ketchup con i cereali. E così sia. Versiamo il ketchup. Non esce, 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 cavolo, non esce. Bisogna togliere prima la carta. Ecco qua, ketchup e cereali. Allora, alla fine, sto piangendo, cavolo. In sé per sé di cereali non si sente nulla. E il ketchup lo versiamo direttamente da qui. Guardate. Altro bicchiere. E adesso è arrivato il momento di mantenere la famosissima promessa. Ovvero quello di mangiare i cereali con la Coca-Cola. No, no, non uscire, non uscire, schiuma, non uscire. Perfetto. Comunque ragazzi, io sto già avendo paura per la coppa magica e vomiterò, credo. Prendiamo anche la Coca-Cola da sotto. Uno, due e tre. Questa bevanda faceva davvero schifo. Aiuto ragazzi. Ma perché faccio sempre se scommesso io? Ma no. Ma perciò è di ghì. Vi faccio la mia recensione. Si sente tantissimo il frizzante, ovviamente. Per il resto è orribile. E siccome abbiamo appena mangiato la Coca-Cola con i cereali, adesso per par condicio proveremo anche la Fanta. Perché tu che ti sei iscritto al canale, sei fantastica. Però ho una piccola novità. Questa non è la Fanta classica, è la Fanta al mango. Voi l'avete mai provata? Mango io. Beh, beh, è buona. Peccato che adesso dobbiamo mischiarla con i cereali. Uniamo la Fanta al mango e i cereali. Il colore è quasi simile se non uguale a quello della Duff. E adesso dobbiamo assaggiare. Dobbiamo. Devo, purtroppo. Oh no, 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 no. Possiamo ammirare questo esemplare di pugliese abituato a mangiare i panzerotti che si è ritrovato a mangiare i cereali con strane bevande schifose. Guardate, si pulisce gli occhi, si sta appoggiando con la testa sul tavolo per meditare alla cavolata appena fatta. Raga, non mi sento assolutamente bene. Penso che questo sia stato il peggiore. Fa veramente schifo la Fanta al mango con i cereali. Forse abbandono. Abbandono questa sfida. Mangio questo solo se arriviamo a 70.000 like. Passiamo alla prossima combinazione di cereali. E adesso non metteremo una bevanda gassata, ma un succo di frutta al melograno. Guardate che colore ha, mamma mia. Sembra un liquore strano, però in realtà è succo al melograno. Ragazzi, non immaginate come mi sento a livello di stomaco. Non ho più forze, sto veramente male. Siamo pronti e assaggiamo. Fa schifo comunque, però non è così orribile come la Fanta. Per farvi vedere che mi piace me ne mangio un altro po'. E mischiamo il tutto alla coppa magica. Adesso passiamo ad un'altra bevanda gassata, che però è americana, ma recentemente sta spopolando anche in Hitoi. E si chiama la Seven Up. Olè, tutto bianco. E che lo spumante è praticamente acqua tonica. E ci accingiamo ad assaggiare. Se mi vedete fare la pipì, mi dispiace, non sono un fuorilegge, ma ho necessità. Ci sta, eh? Si sente un po' di limone. È frizzante, ma ok. Non è orribile. Per ora la mia peggior nemica è la Fanta al Mango. Versiamo. Bene signori, è arrivato il momento fatidico in cui adesso andremo a mangiare tutto quello che contiene la coppa magica. Io sono davvero preoccupato. E per ricapitolare il tutto, qui dentro ci abbiamo aggiunto latte, succo di frutta, Powerade, ketchup, Coca-Cola, Fanta al Mango, Duff e Seven Up. Scicola, 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 scicola. Voi non potete immaginare. Ragazzi, io non so se ci riuscirò. Che puzza, cavolo. Io so già che starò malissimo. Vi saluto adesso così magari sono anche più felice. Lasciate un bel like per avere un altro video simile. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ho preso una mia amica, si chiama Nella la Bacinella e ci servirà in caso di vomito. Io la metto qua e ora siamo pronti ad assaggiare il risultato della coppa magica. Prima di mangiare tutto questo mix stavo cercando di concentrarmi a non pensare a quella puzza orribile che si sentiva. Ma ho fallito! Ragazzi, non fatelo. Ho vomitato davvero, ovviamente non vi faccio vedere il vomito. Ciao, ciao, ciao. Mi sa che Nella la Bacinella l'abbiamo battezzata.